Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Uno spettacolo di danza, teatro e musica ieri sera al Teatro Circus di Pescara dal titolo Cosmogonia. Un'iniziativa organizzata in occasione del venticinquesimo anno dalla scomparsa di Mario Schifano che si inserisce nell'ambito del più ampio progetto della Fondazione Pescara Abruzzo dedicato a uno dei maggiori artisti italiani della scena internazionale del Novecento. La mostra permanente Mario Schifano, il trionfo della pop-arte italiana inaugurata il 1 gennaio all'Imago Museum. Dopo l'acquisizione avvenuta nel 2020, la Fondazione Pescara Abruzzo ha riportato sul palcoscenico Cosmo, la tela circolare di oltre 7 metri di diametro creata da Schifano in collaborazione con altri artisti. Cosmogonia parte proprio da questo lavoro, uno spettacolo guidato dall'attore Sebastiano Tringali con la vocalist Chiara Meschini e la danza di Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Paola Saribas, Matteo Gentiluomo e Lisa Carta Carosi. Uno scenario in cui irrompe la spirale cromatica del dipinto sprigionando l'energia dei corpi, della musica, della parola e del canto. Un tripudio di forme d'arte raccolte sul palcoscenico in un unico momento. La chiera è riuscita in tutta il Mediterraneo per la sua parte. La nuova scultura.